Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come modificare così le impostazioni di schermo avanzate direttamente sul sistema di Windows quindi in questo caso andiamo direttamente sul nostro sistema, tasto destro qua sopra vai sul sistema, ti porterà questa pagina delle impostazioni vai sul sistema, vai sul schermo, scendi fino a giù fino a trovare impostazioni schermo avanzate, proprietà scheda video per lo schermo ed eccoci qua scheda monitor gestione colori, elenca tutte le modalità e qui puoi scegliere tra un elenco di modalità quindi come puoi vedere io ho aggiunto così 1920x1080, 16,8 milioni di colori, 32 bit, 165 Hz se te lo ritrovi sui 60 Hz di questa risoluzione oppure la risoluzione di 1920x1080, 59 Hz puoi metterla a 165 Hz, fare ok e fare applica è finito, abbiamo modificato così le impostazioni di schermo avanzate impostazioni monitor frequenze di aggiornamento, qui a me è 165 Hz e gestione dei colori che sarebbe questo qua a me come predefinito è questo qua, quindi impostazione predefinita color profile questo qua è imposta come profilo predefinito e faccio più da questo video ti è stato utilissimo su come modificare le impostazioni di schermo avanzate su sistema da 60 Hz a 165 Hz, cambiando anche la risoluzione sempre su quell'elenco delle modalità di schermo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao 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 ciao